Ho sempre voluto entrare dentro alla televisione, mi sembrava una scatola magica, dentro c'era di tutto, dai film con Jerry Lewis, a Mork che si sedeva a testa in giù e Mindy lo prendeva in giro, al pranzo è servito con Corrado, a Raffaella Carrà che se indovinavi quanti fagioli c'erano dentro al barattolo di vetro, diventavi ricchissimo e Sanremo con gli ospiti internazionali, Duran Duran, pezzi Kensit, la televisione è stata una vera e propria enciclopedia di conoscenza e anche di sofferenza, quanto pianto guardando le puntate della Pemagà e che tristezza, l'epopea tragico amorosa di Candy Candy e Fantozzi che come mio papà guidava l'850 e la Pina, sua moglie, quando apparecchiava la tavola aveva lo stesso servizio di bicchieri che avevo io e che paura quando sono arrivati i visitors che si staccavano la pelle e sotto erano tutti squamosi, però che gioia il sabato sera con Pippo Baudo e i balletti di fantastico show, poi un giorno si è rotta, abbiamo chiamato il tecnico della Grundig, dopo due giorni è arrivato e smontando il dietro della televisione io ci sono rimasto di merda perché c'erano solo fili, colorati sì, ma solo fili, niente a che fare con tutto quel mondo meraviglioso della televisione e quando poi ha rifunzionato ho incominciato a guardarla da vicino vicino col naso attaccato allo schermo e mi sono accorto che la televisione trasformava tutto quello che c'era dentro in tanti rettangolini tricolore che non stavano mai fermi, quell'anno per carnevale ho chiesto a mia mamma di comprarmi tre tubetti di cerone, uno rosso, uno verde, uno blu e mi ci sono colorato tutta la faccia a piccoli rettangolini, appena arrivato a scuola i miei compagni subito mi hanno domandato ma da cosa ti sei mascherato e io ma come da cosa? Da personaggio della televisione! Tutti sono scoppiati a ridere, non so se mi prendevano in giro o no, ma a me non mi importava niente perché nessuno poteva spegnermi o cambiare canale!